Una pista da medio carico con un primo settore molto veloce. La partenza è decisiva. La traiettoria interna permette di attaccare in frenata alla curva. Questa curva è in salita. La ripartizione di frenata va impostata verso l'avanti. Nonostante la riasfaltatura, l'asfalto può presentare ondulazioni in alcuni punti, come le curve 11, 12 e 18.